Male il Cerignola, molto bene il Monopoli, vincono 3-1 i biancoverdi che esibiscono al Monterissi, una delle migliori versioni di tutta la stagione. Prova opaca invece per gli ofantini che collezionano la seconda sconfitta consecutiva nel campionato di Serie C e tornano a conoscere l'amarezza di un K.O. interno dopo tre affermazioni di fila davanti al proprio pubblico. Michele Pazienza cambia modulo e alcuni degli interpreti opta per il 4-2-3-1 e lancia tra i titolari il Righetti, uno dei rinforzi del mercato invernale. Ospiti invece con Starita principale e terminale offensivo. Dalla parte opposta c'è Malcore a caccia del gol della doppia cifra, riceve da Coccia ma conclude centralmente in avvio. A coraggio l'esordiente Righetti, insidiosa ma imprecisa la soluzione mancina della distanza. Buon principio per i gialloblu, sventola di Ruggero, Vettorel tocca quanto basta. Poi sale in cattedra il Monopoli, splendida ma sfortunata l'acrobazia di Starita, palo pieno Saracco non ci sarebbe arrivato. Il gol del Biancoverdi arriva comunque poco dopo, l'arbitro giudica da rigore questa trattenuta in area di Coccia ai danni di Giannotti dagli 11 metri. Starita non perdona e fa 6 in campionato che diventano 7. Prima dell'intervallo Manzari lascia sul posto Blondet, serve il traversone per lo stesso Starita che anticipa tutti e firma la doppietta personale. 2-0 per gli ospiti a metà gara. Pazienza non gradisce affatto e ne cambia addirittura 3 al rientro dagli spogliatoi. Dentro, D'Andrea, D'Ausilio e Tescone, fuori Sainz, Mazza, Blondet e Righetti. Cambia la musica nel primo segmento di ripresa. Dopo un malinteso tra Capomaggio e Ligi e il trisfiorato dallo scatenatissimo 7 di Biancoverdi, il Cerignola accorcia le distanze all'ora di gioco. Al termine di un'azione orchestrata ed insistita la stoccata finale. Ed in entrato, D'Ausilio, svantaggio dimezzato dunque. Prova a sfruttare l'onda di entusiasmo alla squadra di casa che due minuti più tardi ha addirittura la chance del pari. Aschik viene agganciato così in aria da Amlili. Altro giro, altro rigore, questa volta per il giallo blu. Malcore però non è impeccabile dal dischetto e Vettorel respinge. Sospiro di sollievo per il Monopoli che a metà frazione torna al doppio vantaggio. Coccia perde palla sull'attacco di Amlili, Starita questa volta fa il suggeritore. Manzari completa l'opera 3-1, mazzata psicologica notevole per i padroni di casa che non sanno più reagire. Ultimi dieci minuti, il mio entrato Fella non sfrutta una buona ripartenza e calcia debolmente. Saracco nega la gioia del poker replicando così a Viteritti. Poi dice di no anche a Bussaglia. Non c'è più tempo per le speranze del Cerignola. Finisce 3-1 al Monterisi. Ofantini sconfitti ma sempre avanti in classifica ora di un solo punto rispetto ai Biancoverdi. Si torna in campo già giovedì per il turno infrasettimanale. Cerignolani ad Agropoli nel derby fra matricole contro la Gelbison, Monopolitani e Veneziani contro il Picerno. Con l'auspicio di centrare la terza vittoria di fila e il quarto risultato utile consecutivo.